Eccoci buonasera alla guerra, certo, ma anche i risvolti italiani della guerra con Draghi che utilizza, a fin di bene se vogliamo dire, però utilizza il suo incontro con una scolaresca nel Veronese per raccontare la situazione dell'Italia rispetto alla guerra. Ho cercato in tutti i modi, ve la sintetizzo ulteriormente, di convincere e coinvolgere Putin a attenuare le sue posizioni, a incontrare Zelensky, a pensare alla pace, a frenarsi e tutte le volte ho avuto risposte negative. Ho parlato con Biden e lui invece ha fatto qualcosa, cioè ha fatto telefonare dal suo segretario della difesa al collega russo. Si può, si sta cercando una strada per la pace, dice il Presidente del Consiglio. C'è il piano italiano che ieri il Ministro di Estre di Maio ha consegnato al segretario dell'ONU Gutierrez e che a quanto pare, visto anche dal alto rappresentante europeo Borrell, sarebbe all'analisi di Kiev. Ma la questione di fondo è che bisogna che da parte russa ci sia uno stop all'azione militare e che da parte di Kiev ci sia un via libera al negoziato. E ancora tutto questo manca. E per di più in Italia, e andiamo poi su una materia incandescente, le posizioni si fanno sempre più tiepide sull'aiuto all'Ucraina. Addirittura saranno molto valutate e commentate le parole pronunciate a Napoli da Berlusconi che ha detto innanzitutto che questa cosa delle armi all'Ucraina semmai si fa ma non si dice. Se si mandano è meglio non farlo neanche sapere. Ma poi ha detto dovremmo convincere l'Ucraina ad accettare le proposte di Putin. Questa frase ovviamente è molto impegnativa per usare un eufemismo. Ma vedremo poi le cose sul campo dove a Mariupol i vertici del battaglione Azov hanno confermato l'ordine del comando militare di Kiev di deporre le armi e quindi dovrebbero uscire teoricamente anche il vertice del battaglione dalle cavità sotto l'Azovstal. Vedremo che cosa succederà mentre il ministro della difesa russo Shoigu dice abbiamo iniziato la campagna definitiva sul Donbass ma le notizie sul campo non suffragano questo quest'ordine impartito gli effetti di quest'ordine impartito ma ci sono molte altre notizie oltre a quelle riguardanti la guerra ed intorni anche perché l'allarme per il vaiolo delle cimie è europeo ma anche in Italia adesso si fa più circostanziato con la crescita del numero di casi. Ci sono altre notizie come vedremo del resto tra pochi secondi, poco più di 30 secondi dai titoli. Per Draghi l'Italia può dare un contributo positivo per una tregua tra Mosca e Kiev. Ho cercato Putin per parlargli di pace più volte dice il Presidente del Consiglio ma da lui ho trovato sempre un muro e comunque in campo c'è un'iniziativa diplomatica italiana anche perché invece Biden mi ha ascoltato ma sull'invio di armi all'Ucraina c'è il parere diverso di Berlusconi che dice se le inviamo e lo diciamo diventiamo cobelligeranti, se le spediamo facciamolo in silenzio e poi dice dobbiamo convincere Kiev a citare le proposte di Putin. E dall'Ucraina, dal comando militare, ordine agli ultimi soldati rimasti nella ciaieria Azov stalla Mariupol di mettere fine ai combattimenti. In questa 86esima giornata di guerra si registrano segnali di offensiva russa nel Donbass annunciati dal Ministro della Difesa Shoigu sarebbe accerchiata Severio Danieck, bersaglio dell'artiglieria di Mosca. Colpita una scuola dove si nascondevano centinaia di persone, ci sarebbero tre morti. Sugli orrori di bucia nuove immagini e testimonianze dal New York Times. Una nuova spinta da Palazzo Chigi sulla tabella di marcia del PNRR inviata una richiesta alla Presidente del Senato Casellati di far approvare il DDL sulla concorrenza entro la fine del mese altrimenti sono a rischio i fondi previsti dall'Europa. Si cerca un accordo con la Lega che non vorrebbe il voto di fiducia. Alla fine, dice Salvini, troveremo un'intesa, come è successo sul catastro. Nuovo attacco informatico ai siti di diverse istituzioni del nostro paese. Colpiti i portali di diversi ministeri. In tilt anche i siti dell'Agenzia delle Dogane, degli aeroporti del nord Italia. L'attacco firmato dagli hacker filorussi di Kilnet. Al momento i danni sono circoscritti, ma si teme che sia l'inizio di una escalation. Nuovi casi di vaiolo delle scimmie in Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Regno Unito. Tre i casi finora accertati in Italia, ma in corso una verifica su circa 30 persone. Si tratta dei contatti diretti di chi ha già sicuramente contratto il virus. Ma non bisogna allarmarsi, fanno sapere dall'Istituto Superiore di Sanità. Allo Spallanzani in corso le analisi per isolare il virus. Questione di giorni. Buonasera, quindi la guerra arrivata all'86esimo giorno investe anche dal punto di vista del dibattito politico l'Italia. Perché se Draghi, approfittando della visita a una scolaresca nel Veronese, racconta nel modo più diretto che cosa è successo nei suoi rapporti con Putin e anche con Biden, nelle speranze di pace da Napoli. Uno dei soci della maggioranza Berlusconi dice due cose che lo smarcano e lo mettono forse in una posizione diversa rispetto comunque a quella che è la posizione del governo. Dice non diciamo che mandiamo le armi in Ucraina, all'Ucraina, perché sennò diventeremo cobelligeranti, si fa in silenzio nel caso e comunque dovremmo convincere Kiev a accettare le proposte di Putin, quali siano. Ma è evidente che su questo ci sarà polemica forte. Cominciamo da Draghi. Vediamo uno grosso grosso da schiaffi a uno piccolo piccolo e noi che facciamo, l'istinto qual è? È quello di andare lì e dire smettila dai, è quello di aiutarli, aiutare il piccolino e quello che è successo in Ucraina è il piccolino è diventato sempre più grande e ora si ripara bene dagli schiaffi che gli dà quell'altro. Un paragone semplice ma immediato quello di Draghi, stamani in visita ad una scuola media nel Veronese, un paragone che gli consente di spiegare che bisogna sempre aiutare chi combatte per la libertà, in una guerra che a noi può sembrare lontana ma alla quale spiega possiamo dare un contributo positivo, cercando di fare in modo che aggressore e aggredito si parlino. Io l'ultima volta che ho parlato col presidente Putin ho cominciato la telefonata dicendo la chiamo perché voglio parlare di pace e mi ha detto non è il momento. La chiamo perché vorrei che ci fosse un cessato il fuoco, non è il momento. La chiamo perché forse molti di questi problemi li potete risolvere solo voi due, lei presidente Putin e lei presidente Zelensky. Perché non vi parlate? Non è il momento. Ma Putin, lascia intendere Draghi, non rappresenta il suo popolo. I cittadini russi non sono colpevoli per quel che fa il loro governo. I cittadini russi sono come noi. Quindi dobbiamo e dovremo quando la guerra sarà finita e le condizioni e circostanze ce lo permettano, considerarli come noi, non come nemici. L'Italia, ricordiamo, ha presentato due giorni fa al segretario generale delle Nazioni Unite un piano di pace in quattro punti, il primo dei quali è il cessato il fuoco. La Francia, presidente di turno dell'Unione lo appoggia e ovviamente anche il numero uno della politica estera europea, Borrell, che pone però come precondizione l'uscita delle truppe russe dal territorio ucraino. È precisa. Le condizioni per questo cessate il fuoco le dovrà decidere l'Ucraina. Quando si terranno le trattative, l'Ucraina deve arrivare a queste trattative in una posizione forte. Il ministero degli esteri ucraino poco fa ha fatto sapere che Kiev sta studiando il piano italiano del quale invece il Cremlino dice di non essere a conoscenza. Non so se sia stato trasmesso tramite canali diplomatici, ha detto il portavoce di Putin, Peskov, ne abbiamo appreso l'esistenza dai media. Insomma, c'è scetticismo sul fatto che un qualsiasi piano di pace in questo momento possa essere esaminato. Per quanto riguarda la posizione italiana però c'è un dato di fatto che una delle figure più rappresentative, il fondatore di una delle forze di governo, Berlusconi, dice delle cose molto diverse da quelle di Draghi. Io dico che inviare armi significa essere cobelligeranti, essere anche noi in guerra. Cerchiamo di far finire in fretta questa guerra e se dovessimo inviare armi sarebbe meglio non farne tanta pubblicità. Berlusconi da Napoli a pranzo a Mare Chiaro, mentre la mostra d'Oltremari si è aperta stamattina la seconda tappa della convention azzurra l'Italia del futuro, condisce di distingue l'invia di armi all'Ucraina, dopo che nel primo appuntamento quello romano di un mese fa aveva condannato l'invasione di Putin e ribadito la coraggio europeista e atlantista del partito. Posizione quella di oggi che rischia di complicare il lavoro del governo. Ma l'argomento era già divenuto incandescente dopo il suo intervento di lunedì a Treviglio, nel quale aveva mosso critiche, poi ufficialmente corrette, ai toni di Biden e della Nato, ma anche sull'invio di armi. Posizioni finite nel mirino sul fronte interno al partito della ministra Gelmini. Ambiguità proputi in fanno male al paese, le sue parole con la quale è calato il gelo. Ma i dubiti Berlusconi che insiste per la pace con l'Europa protagonista, che faccia accogliere agli ucraini le domande della Russia, si estendono anche all'eventuale embargo sul gas. Un'ipotesi sconvolgente dice metterebbe a rischio le aziende, ma anche milioni di posti di lavoro. Quindi provocherebbe il dilagare della povertà in Italia. Dovremmo andare in giro il prossimo inverno con il cappotto in casa e una candela in mano, spiega. Non voglio nemmeno pensare che questo possa succedere. Certamente per portare Putin al tavolo delle trattative non bisogna fare le dichiarazioni che sento venire da tutte le parti, dalla Gran Bretagna, dalla Nato, eccetera. Queste le parole di Berlusconi. Con il rispetto che si deve a chi è stato Presidente del Consiglio a più riprese di chi ha portato uno a fianco all'altro il Presidente degli Stati Uniti e lo stesso Putin, Presidente russo a pratica di mare, in quello che sembrava un momento storico e lo è stato provvisoriamente, con tutto il rispetto che si deve dire che non bisogna dare armi o non bisogna dirlo perché si passa per cobelligeranti e anche l'altra cosa, dire che bisogna convincere gli ucraini ad accettare le proposte di Putin appare francamente fuori dalla storia, da quello che sta succedendo, anche perché nessuno sa quali siano le proposte di Putin, che ha iniziato il 24 febbraio questa guerra dicendo che dobbiamo denazificare e togliere di mezzo anche quei drogati che guidano l'Ucraina. Non sono proposte accettabili ovviamente, neanche trattabili, non sono neanche proposte. Ma andiamo a vedere però cosa succede sul campo in questa guerra. Il Palazzo della Cultura Lozova, nella regione di Kharkiv, polverizzato da un missile. L'immagine simbolo dell'86esimo giorno di guerra diffusa dalla difesa ucraina è questa, ma è nel Donbass che l'offensiva russa, per quanto lenta, si sta intensificando giorno dopo giorno. Seviera Donetsk, ultima città della regione di Lugansk in mano a Kiev, è ormai praticamente circondata, continuamente bersagliata dall'artiglieria russa, che avrebbe colpito anche una scuola dove si nascondevano centinaia di persone, provocando tre vittime. Qui gli ucraini hanno fatto saltare un ponte per frenare l'avanzata nemica. Per il ministro della difesa russo Shoigu, la totale liberazione della Repubblica di Lugansk sarebbe ormai vicina. Un'offensiva, quella nel Donbass, destinata ad essere alimentata anche dalle forze che fino ad oggi erano state impiegate a Mariupole nella battaglia dell'acciaieria Azovstal, che sembrerebbe ormai quasi completamente terminata, almeno stando alle parole di chi come il comandante del battaglione Azov, Prokopienko, è tra i pochi ancora rimasti nei giganteschi sotterranei dell'impianto, tra questi anche il suo vice Palamar, che in un video diffuso ieri sera aveva smentito di essersi consegnato ai russi. Da Kiev, fa sapere Prokopienko, è arrivato l'ordine di smettere di combattere e in queste ore si sta procedendo a portare via i morti. Evidentemente una trattativa per completare l'evacuazione è ancora in corso, trattativa molto fragile e difficile, come la definisce il consigliere presidenziale Podoliak, il quale aggiunge anche che gli ucraini dovrebbero astenersi dal commentare finché l'operazione non sarà conclusa. E poco fa la corrispondente dell'emittente russa Channel One ha riferito che anche il comandante della 36esima brigata di marina, Serghi Volinsky, sarebbe uscito da Zostal. Secondo Shoigu, quasi 2000 nazionalisti si sono arresi e 177 civili sono stati salvati. Shoigu, che parla con al suo fianco il capo di Stato Maggiore Gerasimov, riapparso in video oggi per la prima volta dopo che ieri un colloquio telefonico con il capo di Stato Maggiore Congiunto statunitense Mark Milley aveva diradato la nebbia intorno alla sua sorte dopo la visita al fronte di una ventina di giorni fa. Ma andiamo a vedere anche le rivelazioni e le immagini, le nuove prove, perché queste sono diffuse dal New York Times riguardo alle responsabilità russe nell'eccidio di Buccia. Buccia, a nord-ovest di Kiev, il 4 marzo scorso, uno o più militari puntano le armi contro un gruppo di civili ucraini. Gli uomini armati sono paracadotisti russi, i civili sfilano in nove camminano ricurvi con un braccio sulla testa e l'altro a tenere la cintura del compagno che hanno davanti. I video, spiega il quotidiano new yorkese, sono stati girati da una telecamera di sicurezza e da un testimone in una casa vicina. Il video, incriminato si ripete, i civili vivi non appaiono più, sono stati giustiziati. Il giorno dopo immagini da un drone francese svelano l'edificio dove abbiamo visto la fila dei nove muoversi. Poco dopo le immagini inquadrano uomini armati e non distanti i corpi dei civili uccisi. Poco prima, come confermano le foto scattate a quel che resta di questi uomini, le immagini del drone confermano ulteriormente queste testimonianze raccolte dal New York Times, uomini a terra e due soldati che sembrano fare la guardia al loro trofeo. I militari russi che vengono descritti nell'edificio e autori di questa violenza hanno queste facce. Insomma, passano le settimane e si ingrossa il dossier sulle presunte, ma forse l'aggettivo a questo punto è un eufemismo, violenze praticate dai militari russi a Buccia, tristemente famosa per quanto accaduto in un recente passato ed in piena occupazione della città da parte dei russi. Torniamo ai fatti italiani. Ieri la convocazione a sorpresa di un consiglio dei ministri durato solo dieci minuti per dire da parte del Presidente del Consiglio che bisogna approvare entro la fine del mese il disegno di legge sulla concorrenza, se no salta tutto il progetto del PNRR, ovvero i finanziamenti europei all'Italia, un out-out a tutta la maggioranza. Varare il disegno di legge sulla concorrenza entro maggio. Mario Draghi mette nero su bianco in una lettera al Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, l'obiettivo, la data ultima per approvare la riforma prevista per accedere ai fondi del PNRR e arenatasi nella Commissione Industria di Palazzo Madama sulla annosa questione delle concessioni balneari. È la seconda iniziativa del Presidente del Consiglio per superare lo stallo, dopo il Consiglio dei Ministri Lampo, a sorpresa, convocato ieri per mettere in guardia le forze della larghissima coalizione che lo sostiene sulla posta in gioco. I fondi europei indispensabili per rilanciare l'economia, messa a dura prova dalla pandemia e ora sotto stress per la guerra. La missione forte, fondante dell'esecutivo. Nella lettera, che martedì sarà discusa dalla conferenza dei capigruppo del Senato, che dovrà decidere sul calendario dei lavori, Draghi fa la cronistoria del pantano in cui è finito il provvedimento, presentato a Palazzo Madama il 3 dicembre scorso e su cui ancora non c'è stata neanche una votazione, nemmeno in Commissione, nonostante numerosi incontri con le forze politiche. Il premio è netto. Senza una rapida approvazione del disegno di legge entro maggio, sarebbe insostenibilmente messo a rischio il raggiungimento di un obiettivo fondamentale del PNRR, anche perché entro la fine dell'anno bisogna varare anche gli strumenti attuativi. Un nuovo richiamo alle responsabilità, destinatari naturali partiti di centrodestra, sensibili alle proteste dei titolari degli stabilimenti balneari, che da anni si oppongono all'applicazione in Italia delle norme europee sui bandi per attribuire le concessioni demaniali. Insorge dall'opposizione Giorgia Meloni, contesta il ricorso alla fiducia fatto balenare da Draghi se la situazione non si sbloccasse. Quella sul disegno di legge sulla concorrenza è un'altra follia. 30.000 nostre imprese hanno investito soldi sulla base di concessioni dello Stato e rispettando la legge e domani tutto dovrebbe andare all'asta a vantaggio delle multinazionali straniere. Fratelli d'Italia non ci sta. Tutt'altro registro usa il centrodestra di governo. La Lega non vorrebbe il voto di fiducia e Matteo Salvini assicura che si troverà un accordo, come è stato fatto per il Catasto. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, indica la via d'uscita. Bisogna innanzitutto proteggere gli imprenditori che partecipando alle gare avessero perdite. Bisogna calcolare il valore della loro azienda e rimborsarli di quanto perdono. Noi volevamo un po' più di tempo, ma va bene anche così. Sul piede di guerra le associazioni dei balneari, ma il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, striglia le forze politiche sulle riforme. Sono ferme, non ci sono più scuse con il PNRR. Draghi ha dovuto convocare d'urgenza il Consiglio dei Ministri per richiamare tutti gli impegni presi. Ma in realtà un altro fronte che si lega anch'esso a questo momento difficilissimo che viviamo con la guerra è in piena purtroppo attività, perché è il fronte degli hacker che stanno prendendo di mira molti siti istituzionali del nostro paese. Ci sono anche gli aeroporti del Nord Italia nel mirino degli hacker filorussi di Chilnet. Gli scali milanesi di Malpensa e Linate, Orio al Serio a Bergamo, Genova e Rimi hanno subito danni alle proprie infrastrutture informatiche. L'attacco però al momento non sembra aver provocato conseguenze sul traffico aereo. La polizia sta fornendo assistenza ai tecnici delle società di gestione per ripristinare le funzionalità e contrastare l'offensiva cyberterroristica. Durante la scorsa notte, prima degli aeroporti, erano già finiti sotto attacco numerosi portali istituzionali, i siti del Consiglio Superiore della Magistratura, dell'Agenzia delle Dogane e dei Ministeri di Esteri e dell'Istruzione dei Beni Culturali. È la terza volta che accade negli ultimi dieci giorni. Ancora una volta si tratta di attacchi di tipo di DOS. Al sistema informatico vengono inviate una raffica di richieste di ingresso che intasano l'infrastruttura fino a farla collassare. La Procura di Roma questo pomeriggio ha aperto un fascicolo di indagine su questa nuova offensiva degli hacker filorussi. L'indagine sarà affidata ai magistrati del pool antiterrorismo. Il reato è quello di accesso abusivo al sistema informatico. La settimana scorsa il collettivo hacker Killnet aveva annunciato dai propri canali Telegram un'offensiva globale contro dieci paesi, tra cui gli Stati Uniti, l'Ucraina e l'Italia. Anche il sito della polizia italiana era stato messo in difficoltà e in precedenza anche i portali di Senato e Ministero della Difesa. Killnet è un gruppo hacker nato un anno fa e ha come obiettivi le infrastrutture dei paesi ostili alla Russia e alle azioni del governo di Putin. Secondo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Franco Gabrielli, già capo della polizia, c'è da attendersi un escalation degli attacchi alle infrastrutture informatiche del nostro paese. Dobbiamo prepararci, ha spiegato Gabrielli, ma non siamo all'anno zero. La differenza non la fa solo l'attaccante, ma anche la capacità di risposta dell'attaccato. Ricordiamo che Franco Gabrielli è sottosegretario alla Presidenza con la delega proprio ai servizi, al controllo della sicurezza. Andiamo a vedere una storia di cronaca che ci porta in Africa, perché un uomo e una donna, una coppia, che sono originari di potenza, ma da tempo vivono in uno stato africano e insieme al loro bambino e a un cittadino del Togo sono stati rapiti in Mali. Farebbero parte di un gruppo di testimoni di Geova. Il rapimento sarebbe avvenuto nel distretto di Kutiala, nel sud del Mali, 270 chilometri a est di Bamako, la capitale. Secondo fonti locali, a prenderli la scorsa notte sarebbero stati quattro uomini armati, con ogni probabilità appartenente al gruppo jihadista Jinin. Non abbiamo traccia di nostri fedeli in missione in quei luoghi, forse potrebbero essere dei volontari, ha fatto sapere la congregazione cristiana dei testimoni di Geova. La Farnesina, il nostro Ministero degli Esteri, con una nota, ha spiegato di aver avviato tutti gli accertamenti e le verifiche. Il Ministro degli Esteri, Di Maio, segue in prima persona, si legge dalla nota, l'evolversi della vicenda. Andiamo adesso a vedere però una questione che, come si sa, ha destato l'attenzione, l'apprensione, la preoccupazione di tanti, soprattutto dopo due anni di pandemia. Cosa c'è di vero, cosa sta succedendo davvero per questa storia del vagliolo delle scimmie? Siamo attenti ma non preoccupati. È questa la frase più ripetuta nella conferenza stampa organizzata all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma e convocata per fornire gli ultimi aggiornamenti sulla diffusione del vagliolo delle scimmie nel giorno in cui i casi accertati in Italia diventano tre. Tre giovani uomini che non hanno avuto alcun contatto diretto tra di loro. Due potrebbero aver contratto il virus nelle Canarie, il terzo ha raccontato di aver viaggiato soltanto in Austria, a Vienna. Per ora hanno sintomi lievi, dolori muscolari, ghiandole linfatiche ingrossate, piccole pustole sulla pelle, una sintomatologia meno severa del vagliolo tradizionale. Anche per questo, al momento, su chi ha contratto il virus non c'è stato alcun bisogno di cure specifiche. È in corso uno screening su circa 30 persone. Si tratta dei contatti diretti di chi ha contratto il vagliolo delle scimmie, ma non bisogna allarmarsi, dicono gli scienziati. Non ci aspettiamo una diffusione epidemica. Questo virus non è il Covid. È una malattia probabilmente a diffusione molto più contenuta, più circoscritta. Le malattie infettive sono solite a questo tipo di situazioni. Ci sono ogni anno nel mondo focolai di malattie diverse che vanno ovviamente studiate e controllate e questa rientra in questo novero e non direi di non suscitare nessun allarme e nessuna preoccupazione, anche perché tutti i casi, la maggior parte dei casi, hanno un andamento favorevole, benigno, neanche necessitano di terapia. La diffusione del virus avviene attraverso contatti molto stretti, saliva, rapporti sessuali non protetti, ma per capire le modalità con cui si trasmette occorrerà ancora attendere le verifiche scientifiche. Allo Spallanzani il virus dovrebbe essere isolato la prossima settimana. Questo consentirà di effettuare dei test sierologici e di capire se gli anticorpi di chi si è già vaccinato contro il vagliolo umano, quindi prima del 1981, quando l'immunizzazione era obbligatoria, bastano per neutralizzare anche questo virus. Casi di vagliolo delle scimmie sono stati accertati in molti paesi dell'Europa, in Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Regno Unito, ma anche fuori dai confini europei. Ed è proprio la diffusione del virus a far insospettire l'OMS con Hans Klug, presidente delle organizzazioni in Europa, che la definisce atipica, perché è solo un caso tra quelli accertati di vagliolo delle scimmie a relazione con un viaggio diretto dove il virus è endemico e cioè in Africa occidentale e centrale. Vi devo dare conto anche della riunione del G7 dei ministri economici e finanziari che si è conclusa con la presa di posizione per cui il G7 è deciso a misure coerenti per fermare l'inflazione e rafforzare la crescita. L'ha detto il ministro dell'economia tedesco Lindner, la Germania ha la guida in quest'anno del G7. Vediamo un enorme pericolo per lo sviluppo economico dell'inflazione. Queste le parole. Serve una reazione coordinata? Dobbiamo diminuire la pressione sui prezzi? Serve appunto una risposta coordinata sulla inflazione. Bisogna evitare la stagflazione è un termine impronunciabile. Stagnazione ovviamente che si intreccia al fenomeno inflattivo. Questo per quanto riguarda le notizie fino adesso. Dopo di noi a otto e mezzo Lili Gruber ospita Lucio Caracciolo, Luigi Scordamaglia, Lelia Iasilenko e Marco Travaglio. Gli ospiti di Propaganda Live con Zoro ci sono la nostra Francesca Mannocchi, c'è anche Paolo Celato, così citiamo chi abbiamo già visto oggi, Andrea Pennacchi, Lady Blackbird, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Costanza Eroicer e Memo Remigi. Ci fermiamo. Infine le borse e manco a dirlo l'attenzione soprattutto su Wall Street che ha perso tantissimo nei giorni scorsi. Si teme da parte degli investitori americani non soltanto che nella borsa di New York sia iniziata la fase che porta all'orso, come si dice, cioè a una situazione difficile di perdite e in questo momento peraltro anche nell'ultima sessione della settimana, nell'ultima giornata di scambi della settimana tutto è pesantemente in negativo. Dow Jones meno 1,55%, Nasdaq meno 2,5%, Standard & Poor's meno 1,78%. E a Milano come era andata? Vediamolo insieme, la situazione è ben diversa, poco sopra la parità, più 0,12%. È tutto, vi lascio a Lilly Gruber a 8,5%, dopo propaganda con Ezzoro. Noi se volete ci vediamo domani alle 17 per l'87esimo speciale sulla guerra o perlomeno domani alle 20. Buona serata.